Allora, stiamo portando sopra il blu, l'acqua essenziale per allungare il colore e il nero. E adesso portiamo su il mio culo. Questa è un'astronave esplosa, come già vi ho detto. Adesso sto affinando la parte superiore perché ero troppo pigro per farla per prima. Niente, questa è la mia astronave. Spero che funzioni una volta che la finisco. Laura di là sta facendo l'attacco del suo cyborg alla mia astronave, perché giustamente tutto funziona. Quindi questo cyborg è alimentato dai macchinari all'interno di questa astronave. Questa è un'astronave modello Ford Focus 2006, come la mia macchina perché è blu. Perché mi piacciono le moto. Perché mi danno un senso di libertà le moto. Ho due ruote, ho il rischio del pericolo. Non sono, come si dice, quando guidi una moto non sei circondato da vetri, quindi stai in mezzo alla natura. E poi costano di meno. Ve le posso permettere. Ci puoi andare ovunque, nella foresta. E poi non lo so, è più comoda una moto, non credi? Caro telespettatore. In questo muro ci sono tantissime moto. Possiamo trovare il motore di una BMW F650, una carena della Yamaha XT Tenere degli anni 80. e possiamo trovare il motore di una XT non Tenere, quindi XT quella normale, sempre degli anni 80 del mio amico Simone. E basta. Poi sono finiti i motori, non ce ne sono altri. Ah, di là c'è un 16 valvole, che è il motore della Nissan Micra. Capito? Tipo Simone mi ha detto, metti la mia XT. Io l'ho messa, è l'XT, e lui mi ha fatto, ma dov'è la mia XT? Eccola qua. Ma questa è solo una ruota, lo sapevo che facevi una cosa del genere. Capito? Mi piace, no? Deludere gli amici. Deludere gli amici. No, mi piace scomporre le cose, no? Farle esplodere. Non ti piace far esplodere le cose, Laura? Mannaggia!